Buongiorno a tutti, vorrei oggi riprendere in mano il progetto che abbiamo visto del magazzino che è arrivato ormai al quinto video, la quinta lezione, dove abbiamo suddiviso praticamente la fornitura per categoria merceologica. Invece mi è stata fatta una richiesta su YouTube e quindi ho deciso di registrare un video che riprende un attimo quello che abbiamo visto il magazzino 2 e ci permette praticamente di andare a ordinare, avere un elenco qua vedete in fornitura, questo è il risultato al termine del secondo video di magazzino 2, ci permette dicevo di avere un elenco dinamico per quanto riguarda la fornitura fatta però su un singolo prodotto, cioè io decido di avere una soglia per singolo prodotto e quando ho delle vendite che vanno che fanno decrescere diciamo la gescenza sotto la soglia del singolo prodotto a quel punto qua mi andrà a compilare direttamente la mia tabella fornitura. Quindi sostituiremo poi la tabella fornitura, quindi questa è una lezione diciamo bis che si potrà magari vedere o in parallelo quindi successivamente alla lezione 2 oppure può sostituire direttamente il nostro magazzino 2. Mettiamoci subito al lavoro, spero di non fare un video troppo lungo quindi cerchiamo di magari andare subito al sodo. Quindi intanto facciamo così col tasto destro dopo aver selezionato le colonne andiamo a nascondere praticamente quello che non ci serve e avremo le due finestre affiancate perché oggi lavoreremo solo su queste due finestre. Quindi in particolare tralasciamo ancora la parte di costo unitario che non ho ancora visto invece qua aggiungiamo praticamente una colonna sulla giacenza minima, anzi facciamo così giacenza altinvio mettiamo minima ok e ce ne andiamo un attimo a capo poi cercheremo di dare qua ho nascosto praticamente la barra ma da home possiamo dare praticamente un allineamento verticale ok quindi giacenza minima cosa presuppone? Presuppone che io abbia, supponiamo adesso di darla uguale per tutti poi in condizioni di lavoro lo cambieremo questo valore, questa giacenza minima ma supponiamo di darla a tutti i prodotti ok? Ovviamente qua ci saranno anche prodotti che non ho ancora dato ma qua sarà semplice vedere ad esempio nella formula invece mettere vabbè per adesso teniamolo bianco dai se no iniziamo con le formule e ci perdiamo. Quindi quando i prodotti sono al di sotto della giacenza minima evidentemente devono essere ordinati quindi dovrò andare a farli comparire direttamente in questo elenco. Quindi supponiamo per adesso ritenere buono questo che funziona abbiamo visto come utilizzando praticamente la soglia supponiamo che io metta 50 come soglia e vedete che qua vanno a cambiare in maniera dinamica gli elementi non tiene conto di questo 50 che ho messo qua perché se qua avessi per dire un prodotto una soglia diversa da 50 potrebbe anche non dover risultare in questo elenco. Quindi quello che facciamo come sempre è utilizzare magari le formule lo metteremo poi in questa colonna U una volta che otteniamo i risultati andiamo tutto a trasferire sul file chiamiamolo già operativo buono. Per prima cosa iniziamo a lavorare ad esempio sulla colonna I e qua sulla colonna I ad esempio vado direttamente a mettere una formula e dico ma cavolo se il mio è speriamo il primo elemento E3 no? Dico se questo E3 è più piccolo di quello che io ho ipotizzato come soglia minima evidentemente questo è un dato che mi interessa quindi se dovessi dare contro l'invio su questo volete mi destituisce vero come lo interpreto questo vero semplicemente dicendo ah sì questo è un prodotto ordinare qua diamo un bel doppio clic anzi qua non funziona perché non ho ancora non ho niente nelle colonne a fianco quindi il doppio clic non funziona ma vedete mi ha tirato fuori vero tutte le volte che il mio prodotto è da ordinare quindi la gomma è da ordinare la gomma a pane da ordinare la matita HB da ordinare invece falso la penna nera perché perché ne ho 100 ma la sua disponibilità deve essere 50 quindi sono ben oltre quindi giusto che sia falso così come la penna blu e così via la prima cosa qua che non mi piace anche se poi in realtà io non lo userò perché questa è una parte nascosta ok ma qua semplicemente io posso mettere un bel se quindi faccio se con il tasto tab il test che mi chiedo se praticamente non ho il prodotto quindi ad esempio se o non ho la giacenza minima ancora che anche ancora più semplice quindi se g3 quindi questo elemento qua è uguale a bianco ok allora mi lascia anche questo bianco altrimenti mi metti la formula vero falso così chiudo tonda contro l'invio ok doppio clic in questo caso allora vedete mi fa sparire tutte le righe che non hanno una giacenza se qua mettessi un altro prodotto ok con una sua giacenza comparirebbe qua vero o falso secondo del suo valore detto questo cosa mi serve utilizzare questo vero l'idea è quella di avere qua un elenco di prodotti per cui è verificata la condizione vero quindi partiremo ovviamente qua dalla gomma al prodotto 3 quindi sarà dovrò scrivere la prima formula qua quindi cosa voglio chiedermi per avere per per avere chiaro il prodotto da ordinare devo avere il prodotto che qua corrisponde al vero la formula pertanto da scrivere sarà sicuramente un se quindi siamo a scriverci la nostra forma uguale se allora cosa voglio controllare tasto tab quindi si si apre praticamente il il completamento automatico quindi se che cosa io devo verificare se qua c'è scritto vero devo lavorare quindi andiamo per assurdo se il mio i3 è uguale a falso vedete come vado a scrivere falso lui mi dice ok metti questo questo falso che è una funzione logica quindi per me va benissimo questa tasto tab e se la chiappa quindi se i3 è uguale falso allora cosa faccio fai una cosa lasciamelo vuoto invece quindi il ramo del dell'else quindi se è falsa questa condizione ovvero sono il caso in cui il prodotto da ordinare allora iniziamo a metterci che cosa il mio prodotto il mio prodotto me lo restituisce la funzione indice ok di che cosa vi ricordo che in prima lezione avevamo dato un etichetta ai miei prodotti l'abbiamo scritto appunto come prodotti quindi vedete che qua lui mi suggerisce usa prodotti quindi fraccetta verso il basso seleziono prodotti tasto tab inserisco prodotti punte virgola ma che prodotti voglio voglio solo i prodotti quindi qua cosa devo dare devo dare da che riga prenderlo quindi ho bisogno di un numero e io il numero lo tiro fuori però con una funzione se tasto tab se che cosa se i3 quindi sto parlando ancora della prima cella se i3 è uguale a vero stessa cosa che abbiamo questo prima sul falso allora cosa mi ritiri fuori i bitiri fuori il la posizione la riga ovvero andiamo a prendere la funzione righe righe ok righe di che cosa beh io prendo un i3 e lo blocco con f4 e poi ci metto due punti fa sempre questo problema excel però allora io riseleziono i3 e diritto il mio f4 quindi i3 bloccato con i3 non bloccato ok chiudo e questo praticamente è il mio ramo del vero ramo del falso praticamente non ne ho vi ricordo che il ramo del vero obbligatorio il ramo del falso no quindi in questo caso chiudo la parentesi tonda per chiudere il se è posso dare praticamente a ok mi chiede ok la riga colonna non ne ho potrei mettere anche il mio punto e virgola e chiudere ok contro l'invio ok avevo messo una parentesi in più probabilmente ma non una prezzi meno che quindi vedete che lui già mi sta restituendo come prima occorrenza gomma perché perché la gomma è da ordinare questo punto trasciniamo cielo verso il basso ovviamente devo arrivare sia una posizione numero 20 vi ricordo che il magazzino per adesso io lo supposto grande 20 siamo arrivati realmente a quello che volevamo adesso facciamo che ci spostiamo un attimo qua ok vedete che io ad esempio gomma gomma pane e matita hb dopodiché ho bianco bianco vuol dire che qua ci sono due prodotti di seguito che io non devo ordinare a cosa corrispondono alla riga 6 la riga 7 chi c'è in riga 6 e in riga 7 beh la penna nera che ha una giacenza pari a 100 quindi è vero che non la devo ordinare e la penna blu che ha una giacenza pari a 80 ed è vero che non la devo ordinare quindi questi due elementi mi stanno restituendo praticamente delle righe vuote quindi quelli da ordinare con quel valore di giacenza 50 quale per tutti vedete che sono tutti quelli che ho indicato qua quindi il nostro nuovo passaggio sarà quello che adesso tirami fuori per favore un un menu aggiornato togliendo gli spazi di quelli che sono i prodotti che sono da ordinare prima di vedere questo giusto una curiosità ma andiamo modificare già questo sarebbe dinamico ovvero se io la mia gomma che diciamo ho giacenza 40 ma la giacenza minima e 50 qua ok da ordinare ma se io avessi una giacenza minima 30 con 40 sarei abbondantemente sopra soglia di conseguenza vedete che gomma qua mi ritorna bianco ok quindi questo non è dinamico dal punto di vista della dimensione ma è dinamico nel fatto che quando io vado a superare la soglia qua ad esempio e 50 50 cosa è la riga infatti non è da ordinare la aggiungiamo quindi io metto che di avere una giacenza 51 50 sono sotto soglia vedete che la riga mi è comparsa qua ok quindi questo si sta aggiornando in maniera dinamica andiamo a questo punto a capire lavorando ovviamente sulla prima formula come fare a togliere gli spazi avere qua un elenco che cresce in maniera dinamica questa è la parte più complessa diciamo del dello svolgimento quindi la creazione sempre di strutture dinamiche però non ci spaventiamo andiamo a completare la formula magari anche insieme piano piano quindi intanto cerchiamo di capire con uguale che ci serve una formula una formula che mi deve restituire sempre che cosa i nomi dei prodotti e quindi uscirò la funzione indice ok che cosa fa l'indice vuole una matrice e poi dobbiamo dargli la riga della matrice quindi l'elemento di questa matrice ma la matrice sarà sempre prodotti l'abbiamo visto prima quindi vado freccia verso il basso tasto tab ed ho prodotti essi qua ci siamo e la riga ecco la riga viene fuori praticamente dal fatto che lui deve condensare queste tutte queste righe togliendo gli spazi vuoti qua utilizziamo la funzione aggrega allora forse una greca non mi voglio soffermare eccessivamente ci sono magari dei tutorial fatti da molto meglio di quelli che posso fare io quindi magari andate a dargli un'occhiata ma a noi interessa capire che la funzione aggrega ha tante funzioni che include tante funzioni no che servono per appunto per condensare i vari elementi per togliere gli spazi errore quant'altro noi utilizzeremo la funzione 15 che è la funzione piccolo ok quindi funzione piccolo punte virgola la seconda secondo parametro il parametro opzioni e qua ci dice cosa deve ignorare nel nostro caso facciamo ignora valori di errore perché vedremo di creare una formula che genera degli errori dove ho le righe vuote tolgo gli errori e mi tengo le cose buone quindi scegliamo in questo caso la funzione 6 punte virgola bene a questo punto siccome usato la funzione piccolo qua mi chiede vadiamo sulla seconda parte della formula rif 1 e rif 2 perché la funzione piccolo ha bisogno di due parametri il primo sarà una matrice il secondo sarà praticamente il numero degli elementi che deve avere quindi iniziamo a lavorare su questo e andiamo a scriverci rif punto riga ve le spiego magari vedendole in funzione le formule allora come rif riga mi prendo praticamente tutto l'intervallo anche di quello che andrò a scrivere prima no io ho 20 o 20 20 record nel mio diciamo del mio magazzino se ne avessi 100 sarebbe la stessa cosa solo un po più in grande è un po più lungo magari da fare comunque prendo questo intervallo lo blocco con f4 e iniziamo a chiudere la tonda cosa mi aspetto che mi che mi restituisca rif riga andiamo a valutarlo assieme seleziono dalla barra della formula qua su in alto tutto clicco su f9 e vedete che lui mi sta restituendo esattamente il riferimento di riga ovvero la riga di ciascuno degli elementi che lui sta prendendo da prodotti quindi vedete 30 che sarà corrispondente a gomma si trova in posizione 3 il secondo gomma pane in 4 in 5 e così via ok misterando il numero di riga chi se ne frega nel senso che io adesso a questo supponiamo di voler togliere quindi facciamo meno andiamo a togliere un riferimento di riga assoluto quindi prendiamo ancora rif riga e ci prendiamo come riferimento di riga assoluto che so una riga una riga fissa boh prendiamo anche questa l'importante che ci ricordiamo con f4 di bloccarla ok chiudiamo un attimo la tonda cosa ottengo adesso selezioniamo tutto tasto f9 e vedrete che adesso ottengo realmente la posizione 1 2 3 4 quindi uno sarà associato al magazzino uno sarà gomma poi due gomma pane 3 hb ok per adesso lui mi sta dando tutti quello che faccio contro z adesso è prima di tutto aggiungerci magari due parentesi così capiamo che tutta questa parte che sto calcolando con la differenza dei riferimenti di riga mi servirà per dividerla con il mio errore ok cosa sarà il mio errore sarà praticamente tutta la considerazione dell'intervallo dove ho anche gli spazi quindi in questo caso spostiamo un attimo questa robaccia qua sto parlando dell'intervallo che va ancora da un 3 sino arrivare a u20 ok è lo blocco con f4 e dico prendi questo che sia diverso da vuoto perché ho lasciato le righe vuote cosa mi aspetto di trovare chiudiamo intanto la tonda per capire che tutto questo è stato è la divisione tutta questa formula questo pezzo di formale denominatore per capirci anzi lo selezioniamo qualche è meglio cosa mi dà con f9 evidentemente mi sta restituendo false allora quando li vedo tutti scusate un attimo ok mi sta restituendo falso per il primo al primo è vero è falso non c'è niente poi vero è vero infatti c'è gomma pane e b poi falso quando è bianco quindi tiriamo un attimo le somme andiamo un po più veloci o falso quando la cella è vuota ovvero quando la cella è piena ma io ce l'ho al denominatore quindi vuol dire che io quel numero che ho qua sopra lo sto dividendo o per falso o per vero vero da un punto di vista informatico equivale a un 1 ok mentre falso equivale 0 quindi se divido per 0 ottengo un errore si divido per uno non ottengo un errore ottengo lo stesso dato di partenza tradotto ancora contro z selezioniamo questa volta tutto numeratore denominatore f 9 verrete cosa mi dice al posto del numero uno div 0 ok al posto del numero due o due perché perché due ci deve essere gomma pane al posto del numero 3 o matita cabina giusto invece al posto numero 4 che è vuoto o un errore di 0 al posto del numero 5 ancora un altro errore di 0 invece 6 7 8 9 10 via cedio tutti poi da qua al 13 mi dà valore ancora un errore ma è l'errore perché dovuto praticamente a un campo che è un prodotto ancora non ho inserito ok quindi diciamo che da questo punto di vista sta funzionando questo è il primo parametro che io do la funzione piccolo di questa funzione di questo insieme di valori quanti ne devo prendere perché la funzione piccolo ci dice praticamente il più piccolo di quanti più piccolo di uno prende il primo il secondo più piccolo prenderà del mio elenco il secondo valore più piccolo quindi nel nostro caso io farò un riff di riga ok e lo vado a prendere su un punto qualunque ad esempio sulla 1 ok questo adesso vediamo a cosa ci serve riff 1 cosa mi dà andiamo a selezionarlo facciamo il fenomeno e mi restituisce uno quindi dice io sono il primo elemento quassù sì allora prende il più piccolo di tutti uno se fossi al secondo elemento come adesso no scusate questo mi va benissimo anzi facciamo contro z contro z ok no però mi ha cancellato rif di riga aspettate quindi rif punto riga tab di chi di uno facciamo così se lo chiudo un attimo do contro l'invio che cosa mi hanno dimenticato ovviamente un po di parentesi ma queste me le rendere dovrebbe regalare lui ok ottenuto qua gomma pane ecco ma pane chi è il primo che dovevo considerare scusa un attimo trasciniamo la formula vediamo che succede ok vedete che il secondo e matt e matti tacca b poi o buco buco penna rossa ecco qua la penna rossa voglio la squadretta la riga e così via compasso ovviamente questa roba posso ancora buttarla giù sino arrivare vabbè qua sta esagerando giusto per esagerare ma io devo arrivare sino a 20 quindi quest'altra roba che c'è qua giù evidentemente canc non mi serve a no ok questa è l'espansione questo era questa espansione vabbè poco ce ne frega poi le faremo sparire queste non ci preoccupiamo ok quindi sono praticamente arrivato è giusto il mio intento a parte il goniometro qua mi ha segnato 0 adesso vedremo di farlo sparire anche questo quello che voglio fare è per eliminare questo nome applicare qua semplicemente una formula che ci toglie l'errore quindi se punto errore tab di questa roba qua non me ne ha dato già uno se errore quindi se questo mi dà un errore allora punte virgola mi lasci lo spazio vuoto altri 20 minuti quello che c'è diamo invio a questo punto qua ancora un bel doppio clic ok è questo perfetto questo 0 non ho capito perché è comparso adesso lo verifichiamo subito goniometro per l'ultimo evidentemente quello che non gli piace il fatto che vedrete qua compaia espansione la cosa viene fuori questa espansione un errore tipico di excel ma perché lui praticamente non sta trovando più qua niente da indi da dichiarare diciamo che io semplicemente questa cosa la risolvere così andiamo qua sul falso anzitanto ci chiudiamo un attimo questa che non più invece togliamo questo se facciamo finta di non sapere che cos'è questo errore manteniamo qua il controllo logico ok contro l'invio e questo lo tiriamo giù per tutti ok per tutti eventi è vero che oh sì l'uguale scusate uguale contro l'invio perfetto è vero che qua ci compare falso 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 che non ce ne frega niente però abbiamo visto che poi lo facciamo sparire nel senso che io posso nascondere qua la colonna quindi semplicemente seleziona colonna i faccio un nascondi ok tutto quello che c'è scritto qua sotto non ce ne frega niente pure possiamo anche scoprire eccetera vedete che a questo punto con questo semplice passaggio ci ha tolto qua tutti gli errori che c'erano prima si è ricompattata assolutamente la mia tabella è niente adesso cosa possiamo fare beh semplicemente andiamo a prenderci la formula qua quindi tolgo via l'uguale contro il cimela copio vado sul primo prodotto cancelliamo scusate esc vado sul primo prodotto faccio uguale cancello la vecchia formula vedete che qua c'è la vecchia formula no se riga eccetera questo è quello che ho fatto nella lezione 2 quindi noi ci dobbiamo prendere invece questi nuovi valori cancellando il lavoro vecchio contro il c abbiamo detto tasto esc vado dove c'è qua gomma il primo prodotto uguale contro il v e a questo punto contro l'invio e ora trasciniamo praticamente tutto qua verso il basso ok sembra che non sia cambiato niente in realtà è cambiato tutto nel senso che numero prodotti ordinarie adesso non ci diamo non ci diamo peso su questo vediamo che foro l'abbiamo messo abbiamo messo un conta se da e3 a e20 ok quindi numero prodotti ordinarie in questo caso non ce ne frega niente con la giacenza ma dovrò andare a trasferire tutto ok qua questi sono i numeri prodotti ordinarie in questo caso sono nove soglia per ordinare in questo caso non ha più senso quindi potremmo tranquillamente qua metterci bo 2000 vedete che non ha più nessun senso a questo prodotto ordinario invece sta cambiando perché vabbè poi la vediamo questa formula non mi interessa detto questo quindi soglia ordinarie non ci dà più nessun vincolo ma i vincoli vengono fuori da quello che scriviamo qua sopra quindi se io ad esempio metto per tutti i prodotti ok metto una soglia minima di 5 contro l'invio ok vedete che alla fine prodotti ordinarie in maniera dinamica sono diventati la penna rossa sì perché penna rossa ne ho zero vediamo qua poi sono la squadretta perché ne ho zero certo poi sono album a4 ok album a3 ok compasso e goniometro ok vediamo di comprare un po dei goniometri quindi andiamo su carico tiriamo su ad esempio dei goniometri non ci dà poi completamento automatico anche questo sarà da vedere l'ultima posizione quindi scorro la tendina è di goniometro ad esempio ne prendiamo bo 70 che fanno sempre comodo diamo invio torniamo a vedere il magazzino e verrete che il goniometro a questo punto ci è sparito supponiamo di far sparire le squadrette quante ne ho ne ho zero devo averne cinque facciamo un carico di dieci squadrette ok squadrette facciamo un carico di dieci squadrette diamo invio andiamo a vedere che succede il magazzino a squadretta ok non ho messo neanche controllo dell'errore squadretta ok ora dovrei averne 10 e vedete che qua è sparita praticamente la squadretta qua ci dà anche la giacenza cosa vuol dire vuol dire che se qua invece di cinque speriamo di dare cosa ne so 40 contro l'invio a tutti vedete che qua c'è la giacenza del mio prodotto eccetera eccetera quindi diciamo che dopo aver fatto questo passaggio le formule che abbiamo scritto qua ovviamente non ci servono più le possiamo tranquillamente cancella pardon contro z io non ho copiato ah sì ok questa è una formula di appoggio che mi serve piccolo errore cioè se cancello questo che non ci serve niente ma se cancello questa questo era il frutto di tutto il nostro lavoro ok quindi anche qua diamo un aspetto carino magari al grafico adesso scopriamo un po le righe qua tasto adesso scopri una volta che sono scoperte capiamo realmente che ad esempio qua per far sparire queste righe io gli do semplicemente dal tasto home un colore che sia uguale a questo ecco che le formule ci sono ma le ho semplicemente nascoste vedrete che le formule ci sono anzi rimettiamo un attimo abbiamo detto la barra visibile quindi mettiamo qua il segno di puntina che ci aiuta ok invece qua io cosa devo fare beh devo prendere praticamente il formato di questo posso dalla cartella home prendere un copia formato doppio clic e allora andare a pitturare tutti i riquadri sia questo che tutti questi riquadri qua ok e poi ora saliamo e facciamo anche tutti questi cancelliamoci ovviamente le formule non cancelliamoci nuovamente lo stesso errore di prima nascondiamoci queste dico che allora avete un colore carattere ancora che sia grigio in modo tale che tutte le formule di appoggio non ci sono ok o meglio ci sono ma io non le vedo come ultima parte vediamo di eliminare questa questa scocciatura qua che è legata in qualche modo alla soglia quindi se qua metto 20 vedete qua ho 6 prodotti ordinarie non è vero sono sempre 8 questo perché riguardava un attimo questa formula qua c'era un conta appunto se che aveva condizione di avere una soglia praticamente minore di questo 20 in realtà questo non va più bene perché questa soglia deve essere deve sparire da qua tra l'altro quindi andiamo a modificare la formula ad esempio guardando quello che c'è nella colonna p quindi possiamo fare non più un contasse ma possiamo fare un conta direi un contavalori va benissimo tasto tab dell'intervallo ovviamente dove ci sono tutte le giacenze quindi sinché lui qua trova un numero che lo conta anche se vale zero se invece non trova niente ciccia quindi contavalori possiamo dare un bel contro l'invio non devo bloccare la formula ci sta dando 20 perché mi sta dando 20 contavalori diciamo che non ci piace conta facciamo contanumeri ok perché i valori lui trova la formula e non va bene invece con un bel contanumeri questo sì che funziona quindi chiusa tonda contro l'invio vediamo cosa ci restituisce ci restituisce 8 cambiamo la soglia quindi qua 4000 vedete non ha più nessuna nessuna influenza invece andiamo a modificare qua vedete vedete ne abbiamo 8 da ordinare ci vogliamo di buttare giù la soglia drasticamente cioè facciamo una soglia 5 per tutti quindi 5 contro l'invio ok diventano realmente 4 quindi che so questo lo mettiamo a 120 quindi saliamo con questo vedete che diventano 5 facciamo un'altra cosa andiamo a mettere qua nelle squadrette supponiamo la soglia minima e 30 e a questo punto compare la squadretta ok diciamo che quindi abbiamo visto come rimpicciorisco un secondo la fornitura la vado a mettere a seconda della giacenza minima per ciascun prodotto e quindi in automatico questo va a sostituire le altre cose che abbiamo detto quindi questa soglia da ordinare tranquillamente la posso far sparire ok non ci serve neanche la scritta in questo caso perché la soglia ordinare è legata al singolo prodotto la sua giacenza minima ok direi che per questo video è tutto se avete altre segnalazioni altre cose da farmi notare ben volentieri cercherò di ascoltarvi ok alla prossima ciao ciao